Centrale operativa Anas, buongiorno. Buongiorno, Rocco Moria signor, da San Giovanni in Piore sono candidato a Palla Palla alle prossime operazioni e ho sentito un lamentamento da fare io, stai chiamando, perché i miei concittadini pure che si devono muovere con la macchina, ma noi non ne possiamo proprio più, con questi semafori che sono la 107 per andare alla SIDA, cioè cosa è la SIDA? Siete caduto? Pronto? Siete caduto? No, sto ascoltando, sto ascoltando, mentre ascolto lei. Forse non avete sentito bene. Allora, senta signor Loria, scusi, dato che mentre parlo con lei, io sono l'operatore, mentre parlo con lei, ho degli schermi davanti, perché noi controlliamo tutte le strade della Calabria. Perché sono capisciti poi quando la gente lo chiamava? Capito? No, ho capito. Ho parlato conmio che signor Loria, ho guardato gli schermi, ho capito che buongiorino? Scusate, ingegnero. Ma questa lamentela, però, mi scusi signor Loria, questa lamentela l'hanno già fatta 700 persone. Allora, ma è così facile. Ho capito, ma avete, 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 avete che consare e facete 701, insomma. Ma... Quindi la buona casa, la menta non beneficare niente. Signor Loria, ma è così semplice, le chiedo, è così semplice capire che se ci sono i lavori in corso ci vogliono i semafori per, per far circolare a senso alternato il... la circolazione automobilistica. Ma, 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 sui ingegneri, mi dovete spiegare come funzionare una settimana fa? Ah, senza alternato, per quello capiscio, la via verde a te mia che posso passare e vado a parte a tesero russi. No, no, non sto dicendo... Ma qual è? Se va russo a te mia e vado a parte a tesero verde, ho capito che voglio rire. Ma, ma, qual è il problema, signor Loria? Qual è il problema? Eh, il problema è che tutti quanti stanno dicendo che ora sono candidati a Sina qua per la palla. Eh, 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 e quindi praticamente tutti quanti stanno venendo da mia, perché c'è gente che va a tigre, che va a Cosenza. Sì. No? Sì. Tiene per una visita, una malattia. Sì. Tiene per un parente. Sì. Tiene per Fatima. Tiene per cose, sennò tutti quanti a Cosenza. Ok. Sennò tutti quanti a Cosenza. E' un po' di sacrificio. Un po' di sacrificio. Un po' di sacrificio. Un po' di sacrificio. Voi siete assiccati a Saseggia. Quello cuore si paga a Saseggia. E' beneficato. Giustamente cosa dice? L'ho detto. Va a buttare un credito a tutti. Ma secondo me... E' un sacrificio, scusate, ma quando finiscono se va a votare. Ma cosa voglio rire? Ma meglio metterci tre ore o rischiare di non arrivare? Meglio metterci tre ore? Uno dovrebbe mettere un po' di buonsenso, no? O no? Sì. Molto più meglio. Molto più meglio è metterci tre ore e non che non arrivare. Però nel superpondicello che se erano all'estero, per esempio che io sto avendo a che fare pure con i deputati e cose all'estero perché mi stavo organizzando preservazione nel 2016, no? C'è parlando che sono da lavorare che in una settimana si parli. A te noi ci vogliono sette anni per lo quale non vado a dirgli. Ormai lui è un tempo. Allora, noi abbiamo dei protocolli, no? Che in pratica sono diversi da... Poi io una volta usavo i fogli di protocollo e ne facevamo a cattare quando io ho la scuola e cosa, ma adesso i protocolli che servono per aggiustare un ponte o una pezzetta esatta. Capito che voglio dire? Ingegni. Abbiamo dei protocolli, non i fogli protocolli, non i fogli protocolli. I protocolli, i protocolli sono un'altra cosa, cioè i metodi, le metodiche ingegneristiche per lavorare, sono diverse da quelle degli altri paesi. Adesso i lavori... Ingegni, scusate che vi interrompisco, ma a me è che... Mi facete se a candidare nei cazzi. Non è che io... Se mi vengo al lettore mio, alla casa, ci posso dire, no? Ho chiamato all'Ananas. Il signor Ananas mi ha detto che hanno dei protocolli. Dice io a me che mi ne vede che ci sono i protocolli. Che li vanno a girare nei protocolli? Che li vanno a girare nei camminare su passata, libera. Ho capito che manco un'ora che ci vado fino a Cosenze. E ce ne vado qui perché ci sono quattro e sei mappari. Ho capito che voglio ridere, signor Ananas. Signor Loria, Anas, no? Ananas. Sì, sì, Ananas, sì, ho capito. Ho capito che voglio ridere. E la gente... la gente vuole camminare a girare su passata. Poi, secondo voi, no? Ora che vengono alla stagione bella, si deve andare in Siva, secondo voi. Un turisto, no? Allora, un turista... Allora, un turista... Allora, un turista... A passare la settimana eravati. Ha capito che voglio ridere? E se fosse lei il presidente dell'Ananas che farebbe? Mi dica lei arrivato a questo punto, visto che... che farebbe? Un turista... Io ho anche se... Se vanno le paure, ci sono le maniare. Eh? Voi avete rompere, ci sono le maniare. Perché qua non è che potremmo stare che non lavorare una settimana, c'erano sette anni. E poi i soldi zumbano pure. Ha capito che voglio ridere? Che sta... Il bitume che doveva arrivare ha avuto dei rallentamenti perché le società che... non è questo Covid, non? Il coronavirus. Il coronavirus. Il coronavirus. È la stessa cosa. Non ha già scusa. Sa già scusa ai cazzo che vi servivano? Le... Quella scusa cosa? Eh? Non ho potuto fare che c'è stato un coronavirus. Eh? Quello non è arrivato per il problema del coronavirus. No, no, la via del padre però purtroppo quello coronavirus. Voi avete riuscito a punire questo coronavirus. Però non c'è nessuno. È carotto. No, sto faccio. No, sto ascoltando. Sto ascoltando, sto ascoltando. Eh? Dovrei anche liberare il telefono perché se arriva qualche emergenza dall'autostrada... Eh? Io non so che risponderle, cioè... Ah? Quindi l'emergenza dall'autostrada voi le soddisfacette? No, stiamo procedendo. Della super strada, no? Ma faccio capire. Ma... No, seppure siccome è il mio candidato a sindaco... Se ancora mi vanno con la domanda, capisci pure... C'è da cercare una risposta più concretamente. Allora... Capito? I lavori nella zona nostra rispetto alle altre zone del mondo sono più complicati perché la morfologia del paesaggio... Chi ne ne chissà? Chi ne ne chissà? Chi ne ne chissà? Chi ne ne chissà? Fammi capire quello che non c'è da morfologia. Il paesaggio della Sila è diverso. Ah, lo fate per far vedere i paesaggi! Queste macchine rallentano e si guardano i paesaggi, si fermano! No, 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 no... Non ho capito, allora faceteli capire più migliori che si... Come le... Come le... Come le... No, no, no... Non c'è il disagio architettonico. In Giappone... Ho capito, ma non lo facete in due giorni come il Giappone, però facetelo in due anni. Caccia pure duecent'anni per fare una cosa, oi! Eh, io non lo so cosa mi incominare! Vedete che io vi faccio causa, eh! Perché se vengo a questo sinaco... Io vi porto in tribunale! Non è fricare niente a me, eh! E meglio rire perché... Parlo chiaro perché... Dopo... Signora Nasser... Non mi potete rire dopo ma... Eh, ma tu... Non mi avete detto niente! Io tu parlo molto... Bello chiaro chiaro! Io vi porto in tribunale! Capito che voglio rire? Signor Loria, io... Diamoci del tuo... Io mi chiamo Raul, sono un operatore, no? Ah, non siete di qua! No, Raul, Raul... Mi chiamo Raul! Raul! Raul... Raul è un nome di origini... Ma... Sono italiano! No, italiano, sì! Eh! Allora... No, perché qua... Ci rispondiamo proprio... Poi le gente povera... Che magari... Un canzone di situazione... Capito che voglio rire? No, no... No, io lavoro... Raul è italiano! Allora, voi... Se adesso mi portate in tribunale... Io non c'entro niente con l'ANAS! Io lavoro qua... Io non sono un dirigente dell'ANAS! Sono un... No, no... Non siete proprio un signor ANAS! No, no... Ma lui non c'è! Lui non c'è! Chi? Il signor ANANAS! Proprio... Che ci potesse parlare... Tu ci ricevi... Per esempio c'è di dire futuro sindaco... C'è il sindaco di palla a palla che vuole parlare... Passami io un momento, parlo! Eh... La sede nazionale vi passo allora... Vi faccio parlare... Magari... No, proprio con lui... Con il signor ANANAS! Mi fa parlare... E allora facciamo una cosa... Adesso... Adesso lo... Glielo dico... E vi faccio... Vabbè... E poi quando cacciano i temapare... Si... Vabbè... Che ti offro un bicchiere di vino... Senza panino... Senza... Nemmeno la felicità... Perché... La felicità di passare... Con quattro temapare... Capito che voglio dire? Vabbè... Che ti ingazzisci... Che ti ingazzisci... Vabbè... Ma c'ho presata... Avemo sempre... C'è una cosa... C'è una cosa... C'è una cosa... C'è una cosa... Capito che voglio dire? Ma avete parenti? Avete parenti voi? Sì... A Savelli... C'ho... A Savelli... No... A Savelli... A Savelli... Sì... 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 No... Dico... Sì... 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 Non so se... Vabbè... Sì... 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 Io... Già ho progetto pronto... Che faccio... Nel primo anno... Sicuramente... Se vengo a letto... Un ponte... San Giovanni... Palla Palla... Savella... Capito che voglio dire? Perfetto... Savelli... Savella... Sì... Sì... Ah... Ok... Va bene... Vi... Allora lascio la notte... Sì... Mi raccomando... Sì... 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 Vi ho visto un appuntamento... Ok... Va bene... Eh... Vi ho visto un appuntamento... Che... O viene lui... Varo io... Se ne trovavamo attaccato... A Camigliatello... Mi prendiamo un caffè... Ne mangiavamo una cosa... Non può che... Con che porcini... Eh... Ero uno... Nel modo... Nel altro... Capito che voglio dire? Va benissimo... Eh... Davolo... Se vuoi prendere il prodotto... Non è che avviene... Ha capito? Va bene... Grazie... 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 Ti faccio provare le funce buone... Va bene... Ok... Un po' di pazienza... Eh... Un po' di pazienza per questi semafori... Un po' di pazienza che... Si risolve... Eh... Io non ce la faccio più a tenere però... I cristiani che vengono a casa... Ma uno... Ma uno... Signor Futurosi... Signor Futurosi... E li semafare... Eh... Ma lei... Ma lei... E li semafare... Signor Futurosi... E li semafare... E li semafare... E li semafare... Ma lei può anche rispondere... Gli dica... E' un modo... Quando è il semafore rosso? E' un modo per stare insieme alla famiglia... In macchina... Capito? Ah... Non ce l'ha pensato a chisso... C'è... Uno scherza... Sente lo stesso... Non ce l'ha pensato a chisso... Eh... Si può anche dire una cosa di questa... Ah... Per la... Eh... Portatevi un mazzo di carte... No... No... Ma... Portate le carte... Cos'è... Vi fate... L'amplisco... Però... Attenzione... Non... Non... Si fa per... Dei passare... Se no... Beh... Ha detto... Qui c'è la tesonetta... Ma non quello... Eh... Portatevi i giochi... No... No... Il signore Piccirilli... All'altra... La minna... Andando... Capito? Ma... No... Rido perché... Non dicevo in questo senso... C'è... Stare insieme... Scherzare... Raccontare una barzelletta... Ridere... Vabbè... Solo... Solo... Quando è rosso... Capito? Solo quando è rosso... Chiaramente... Quando è verde... Non si può giocare... No... Eh... Però... Si può giocare... Alla bottista... Di stare attento... Esatto... Ok... Arrivederci... Che presente... No... Dico... Presenterò... Cioè... Vi porto il suo messaggio... Si dice... No... Ve lo saluto... Presentatemi... Va bene... No... Insomma... Va bene... Era una cosa tra me e me... Non vi preoccupate... Eh... Sì... Sì... Va bene... Arrivederci... Io... Oggi... Domani... Oggi... Domani... No... Ma è... È un modo per... Entrare... Capito... Per... Per... Unirsi... No... Per avvicinarsi... No... No... Avvicinarsi... C'è la gente... Ci sono operai... Mamma mia... Cosa posso fare... Che cosa puoi fare... No... Avvicinarsi... Ma avvicinarsi... In senso... Lato... In senso... Ah... Sei nuovato... Certo... In senso... In senso... Metaforico... Avvicinarsi... Feeling... Mentale... No... Semmaforico... Non metaforico... Va bene... In senso... Mentale... Semma... Semmaforico... Capito che voglio dire... Va bene... Signor Loria... Vi devo salutare... Arrivederci... Laudio... Per sapere... Perché io... C'è sempre... C'è sempre... C'è sempre... Deve... No... Le porto in tribunale... Capite che voglio dire... C'è scatto... Grazie... Arrivederci... Prego... Ti ringrazio... La guarda... La porto in tribunale... Capite che voglio dire...